C'è una fonte di traffico su YouTube che farà esplodere le tue visualizzazioni. A molti YouTuber lo sta già facendo e ci sono le prime domande. Ma questa cosa porterà dei benefici al mio canale? Oppure mi penalizzerà? Sto parlando di Google Discover, ma su Analytics non si trova. Per farlo devi andare in Analytics, poi vai su Mostra altro in modo che tu possa vedere l'analitica completa. Dopodiché spostati in Sorgente di traffico. E qui inizierai a vedere alcune cose interessanti. Clicca su Esterna. Ed ecco questo picco strano che io sto iniziando a notare. È Google Search. Lo vediamo meglio selezionandola solo. Addirittura la porto su 90 giorni perché ho iniziato a fare un lavoro di un certo tipo. E possiamo notare come Google Search è aumentata. Ora, sono un po' fermo perché non ho pubblicato video, ma negli ultimi 90 giorni mi ha portato 90.000 visualizzazioni. C'è scritto Google Search, ma non è Google Search la ricerca. È Google Discover che dentro Analytics il traffico praticamente non viene splittato come avviene all'interno della Search Console di Google, dove per i siti classici abbiamo sia la questione Search Result nel pannello Performance, sia Discover. Ecco, purtroppo su Analytics non c'è. C'è solo Google Search. Io l'ho detto più volte al team di YouTube e anche al product manager di YouTube Studio, in particolare di Analytics, spiegandone l'importanza. Speriamo che venga aggiunta presto. La cosa però che fa notare, poi vi dico come poter sfruttare Google Discover, e tanti mi stanno facendo questa domanda, ma il traffico da Google Discover, quindi Google Search, però, ha una durata media di visualizzazione molto bassa. Infatti lo vediamo nelle fonti di traffico Google Search 053, nei confronti ad esempio di un Facebook 4 minuti o ancora di un Telegram 5 minuti e 34. Questo avviene perché ovviamente Google Discover non è un ambiente esattamente pensato per i video, quindi abbiamo un consumo di notizie molto veloci. Le persone cliccano, aprono il video, guardano un minuto, tentano di capire se gli interessa e poi chiudono o rimangono. Quindi sono tante le persone che cliccano, guardano un bel po' di secondi e poi lasciano stare. Ma questo è un traffico molto interessante. E io lo noto perché quando un mio video esplode su Discover aumentano anche gli iscritti, ovvero le persone da quei video poi si iscrivono al canale. E questo è un indice molto importante. Vuol dire che su Discover abbiamo una grande esposizione. Non tante persone scelgono di rimanere, ma quelle che scelgono poi di rimanere effettivamente fanno delle azioni importanti. La domanda sorge spontanea, ma questo abbassamento del watch time mi penalizzerà su YouTube? È una delle domande che tante persone iniziano a fare. La risposta è non dovrebbe. Allora, premesso che non sappiamo, e questa è una delle cose che vorrei chiedere le prossime volte, se YouTube tiene conto di un watch time differente in base ai canali, dove poi il video viene presso in considerazione e guardato, io ne dubito, credo che ci sia un indice a prescindere qualitativo di tutto il video che va oltre la fonte. La cosa interessante è che il tempo di permanenza sul video non è l'unico parametro importante della formula di YouTube. Infatti, il sistema di raccomandazioni, eccolo qua, lo vediamo in questa slide, ha tre parametri importanti, l'appeal, l'engagement e la satisfaction. Quindi l'appeal è tutta quella parte riguardante se la persona sceglie o no di guardare il nostro video. Poi però deve, quel video deve portare engagement, quindi la seconda parte, e poi deve essere anche la satisfaction, l'utente deve essere soddisfatto. Quindi se noi facciamo un video clickbait, poi chiudono subito e nessuno interagisce, quello è un parametro. Ma abbiamo visto che su Discover si iscrivono e fanno azioni, quindi queste segnali noi le abbiamo. La formula dell'engagement non è solo dedicata a quanto effettivamente in percentuale guardi un video o qual è, per esempio, la durata, ma è una formula, diciamo, di aggregazione. Aggrega tutti i numeri, immaginatela come una formula matematica, per tirare fuori un punteggio. Una moltiplicazione, ecco. Andiamo a fare un calcolo semplice semplice. Un video fa mille visualizzazioni, la durata media del video è 180 secondi, che corrisponde al 30% del video. Perché questi tre minuti, in sostanza, questo 30%, perché il video dura dieci minuti. Quindi dieci minuti sono 600 secondi. Una cosa molto stupida, ovviamente YouTube non funziona così, però per far capire un po' i ragionamenti dietro, è che se io moltiplico mille per 180 per 30, viene fuori questo numero qui, che è in sostanza 5 milioni e 400 mila. Ma cosa succede se io ho le mie mille visualizzazioni e le porto a diecimila? Invece che farlo durare tre minuti, facciamo questo esempio, siccome vado su Discover e esplode, non dura più 180 secondi di media, ne dura 60, quindi la percentuale è 10. Ok? Perché 60 secondi su 600 è il 10%. Vediamo come il punteggio del video arriva a 6 milioni. È superiore, nonostante abbiamo una percentuale di molto inferiore e abbiamo una durata media di molto inferiore. Se vogliamo esagerare questa cosa è andare a 50.000 visualizzazioni, portare, che ne so, a 30 secondi, in questo caso, la durata media che corrisponde al 5%, andiamo a fare il punteggio. Eccolo qua, 7 milioni e mezzo. Ora, YouTube non funziona in questo modo, gli algoritmi sono molto più complessi, però siccome ci sono tanti parametri che vengono presi in considerazione, appunto per quella che è il sistema di raccomandazioni, che riandiamo a vedere un attimo, dove c'è l'engagement e la satisfaction, vediamo che effettivamente, anche se cala quella che è la durata media e cala quella che può essere, insomma, una percentuale di visione, se il video esplode e fa tante visualizzazioni e poi le persone hanno anche delle azioni, ecco, è qualcosa di importante. Insomma, non saremo penalizzati. Peccato non avere questi dati precisi per Google Discover, perché in effetti una delle cose che si fa nella parte SEO è andare ad ordinare quelli che sono tutti gli articoli di un sito che sono usciti su Discover per capire quelli che hanno il titolo migliore, la copertina migliore, perché Discover è un posto veramente molto molto interessante perché è una palestra proprio per questi elementi, per il copywriting, per le grafiche, eccetera, eccetera. Quello che posso consigliare a chi fa YouTube e vuole esplodere su Discover, a parte andare a recuperare una serie di video che ho fatto qui sul canale, ve li metto in descrizione, e agire pensando all'audience massima possibile. Ora, sto preparando un video su come sfruttare Google Discover se fa YouTube, quindi una cosa molto molto particolare, però voglio anticipare questo video con una serie di cose perché il video sarà un po' lungo e quindi lo so che tanti non lo andranno a guardare, so che siete qua e quindi ne approfitto, diciamo, di questo momento, perché ci sono delle cose che potete andare a fare. Dovete diventare, ve ne dico almeno tra o quattro, però la prima è che dovete diventare maledettamente bravi e brave a studiare l'audience, la copertina e il titolo. Andiamo a vedere un esempio. Eccolo qua. Il video che mi è esploso, me ne sono esplosi un bel po' in realtà su Discover, ma questo è quello che ha fatto meglio di tutti, diciamo, le migliori prestazioni. Questo dedicato al video editing due ore, da due ore e dieci minuti con l'intelligenza artificiale. Ora, ve lo spiego e vi aggiungo una piccola cosa, ovvero che purtroppo andando ad analizzare oggi i canali YouTube non potete più sapere com'era un tempo, perché quello YouTube e quel video sta facendo veramente bene, appunto perché non avete le fonti di traffico. E siccome su YouTube stanno migliorando tutte le fonti, diciamo, di traffico, non avete più il controllo di questa cosa. Se è inutile che guardate gli altri canali così a caso. Questo video, che il titolo viene tagliato, in realtà su Google Discover questo titolo si vede tutto. Ora ci clicco. Ti moro. Eccolo qua. Ed è video editing due punti da due ore a dieci minuti con l'intelligenza artificiale. Filmora è il miglior software. Allora, qui ci sono una serie di elementi che voglio condividere con voi, molto importanti. Possiamo confermare questa cosa. Comunque mi piace, ho avuto tanti iscritti, quindi la soddisfazione c'è stata nel video. Ecco perché dico che è un qualcosa di importante. Però qui incominciamo a vedere una serie di dinamiche. Innanzitutto partiamo, facciamo così, partiamo dalla copertina. Eccola qui. Allora, l'ho allargata un attimo per farcela vedere insieme. Innanzitutto il format prima e dopo funziona. Poi funziona la faccia che sta esprimendo una determinata emozione e funziona il resto che c'è. Due ore e dieci minuti. La rappresentazione è grafica. Non ci sono troppe parole. O meglio, non ci sono troppe parole che cognitivamente una persona deve andare a capire. Perché? Che cos'è che accade? Che la persona viene attratta da quella che è la copertina, magari dalla faccia. Dopo cognitivamente è facile da comprendere. Prima e dopo. Due ore e dieci minuti. è veramente molto molto facile comprendere questa cosa. La possono comprendere tutte le persone che la guardano. Non è un qualcosa di tecnico. Non è un qualcosa... Se già qui avessi scritto la parola visualizzazioni sarebbe entrata già in un'ottica addirittura un po' diversa. Quindi la prima cosa è stata una copertina molto molto broad. Molto molto per tutti. Molto facile da questo punto di vista. Le copertine le dovete studiare maledettamente bene. Ma poi c'è il titolo. E il titolo contiene una serie di cose molto interessanti che voglio condividervi che poi nel video su Discover lo andremo a vedere ovviamente nel dettaglio. Ma è questo. Video editing. Due punti. Da due ore e dieci minuti. Con l'intelligenza artificiale. Filmora è il miglior software. Discover per quanto abbia delle cose molto simili a YouTube ha una serie di funzionamenti e meccanismi diciamo un po' diversi. Ovvero per Discover esistono questo vale anche per YouTube però per Discover è più evoluta la faccenda esistono gli argomenti così come esistono su YouTube. Ma per Discover sono entità. Cosa potete andare a usare per scoprire l'entità di Discover? Google Trends. Andate su Google Trends mettete ad esempio la ricerca su YouTube in Italia gli ultimi cinque anni non importa tanto questa cosa però quando voi scrivete video editing ci dice Google Trends search term e poi topic. Allora questo topic significa che è un'entità. Filmora software viene riconosciuto o ancora intelligenza artificiale vedete campo di studi e non solo search term. Questo vuol dire che Google riconosce quelle che sono in questo caso le entità i topic gli argomenti e tornando quindi al titolo qui vediamo che abbiamo il video editing come un'entità l'intelligenza artificiale e anche Filmora l'entità questa è un'ipotesi che non sono mai riuscito a confermare però la cosa la sensazione che io ho è che tu più nel titolo riesci a inserire dell'entità più hai possibilità di essere mostrato ad un audience molto ampia perché funziona come dei cerchi concentrici di persone e tu a più persone ti riferisci più questi cerchi si allargano ma qui c'è una costruzione di un titolo ben fatto ovvero video editing è la tematica principale quindi è quasi mi sto rivolgendo ad un target molto ampio però specifico è un po' particolare dire target su video editing però è un po' così poi ti dico da due ore e dieci minuti e questo è un tema molto importante ovvero che noi quando cerchiamo delle cose da questo punto di vista sono pochi davvero gli argomenti broad che ci attirano che sono fare i soldi risparmiare tempo quindi andare veloci studiate tutta una serie di queste cose che vi possono interessare quindi da due ore e dieci minuti con l'intelligenza artificiale che è l'argomento di oggi dopodiché aggiungo una considerazione importante film ora è il miglior software prendo posizione questo titolo ha 98 caratteri è una cosa molto strana se lo chiedete a un SEO vi dice che è troppo lungo eppure su Google Discover si vede tutto perché su Google Discover si arriva fino a tre righe la cosa molto interessante di tutto questo è che ancora non si è capita è questa cosa che vi sto per mostrare l'ho mostrato durante la nostra accademia in un seminario verticale che andrò a ripetere si chiamerà la SEO del futuro lo trovate poi vi metto il link dove mostravo la nuova home di Google da desktop dove in alto c'è tutta la possibilità di utilizzare la search il microfono lens e sotto c'è Google Discover vedete che ha tre righe nel title andiamolo a dire a quelli che fanno SEO e dicono 70 caratteri ma quali 70 caratteri? qui la cosa molto interessante è che quando questa home sarà disponibile per tutti e se lo sarà tutto quello che fino ad ora vi ho condiviso esploderà i vostri video esploderanno quindi se andate ad analizzare le cose che vi ho detto e diventate maledettamente bravi e brave sulle miniature sui titoli sullo studio dell'audience degli argomenti eccetera eccetera il vostro canale esplode e questo tipo di titolo che io ho creato e non ho creato ovviamente imbrogliando le persone questa cosa è vera è davvero così quindi non è che ho fatto il furbo non è che ho creato un video di chissà per quale motivo io se non fosse stato per filmora e se non fosse stata per questa fantastica funzionalità di taglio di togliere il silenzio e delle altre cose che ho mostrato nel video sull'intelligenza artificiale io non dico che avrei smesso di fare video ma non ne avrei fatti così tanti e non avrei ripreso con questo ritmo mi sono fermato solo settimana scorsa da settembre e questo proprio perché questo grandissimo software mi ha dato questa possibilità quindi il video è vero il titolo è vero è un titolo fatto maledettamente bene non è clickbait è un titolo fatto bene è persuasivo quindi quando io sono tornato a fare youtube a settembre ho fatto anche questo test ho detto io voglio applicare tutto quello che ho insegnato Firona per vedere se è vero per vedere se funziona vi posso dire che funziona ovviamente tantissimo lo sapevo però lo volevo proprio fare e farvi vedere questo tipo di percorso lo vedete anche sono andando a fare il canale magari un giorno ci facciamo una live su tutti i video che ho pubblicato e come stanno andando e perché stanno andando così bene ed è interessante perché molti youtuber come me che fanno content creation dopo un po' di tempo si perde anche quella voglia di fare i video ritrovare quella passione nel fare i video non è così facile e credo che dopo un po' di tempo che fai youtube ti dimentichi di quelle che sono le cose importanti che ti hanno portato a fare video di determinato tipo e poi a un certo punto si smette sostanzialmente quindi credo invece che questo tipo di esperienza possa essere molto interessante per tutti perché effettivamente andando a curare per bene quelli che sono gli elementi conoscendo la nostra audience conoscendo le tematiche gli argomenti l'entità i topic ai quali sono interessati conoscendo quelle che sono di tendenza curando maledettamente bene la miniatura e il titolo e ovviamente il contenuto si può fare veramente veramente tanto bene con questo concluso e noi ci vediamo al prossimo video spero che esca domani non sono ancora sicuro di cosa voglio pubblicare ho una serie di video in cantiere che sto per fare e poi arriveranno nei prossimi mesi davvero tanti tanti video tutorial e altre robe di youtube di google della seo eccetera eccetera quindi mi raccomando seguitemi ciao ciao